Daniele Rondinelli, amministratore unico della Rondinelli Escavazioni. Allora, parliamo di Soil Cement. Che cos'è questo prodotto? È un legante per materiali inerti, quindi è una composizione che deriva da un polimero vinilico che utilizzato con i materiali inerti rende la struttura elastica ma percorribile per anche mezzi pesanti. Quali sono i campi di applicazione di questo prodotto, di questo tipo di polimero? I campi di applicazione sono quelli dove ci sono materiali inerti, quindi stradelli bianchi, parcheggi, situazioni di argini all'interno di parchi naturalistici, piste ciclopedonali, tutte quelle situazioni dove la presenza di asfalti non è possibile per vincoli ambientali. Quindi in tutte quelle aree tutelate da particolari vincoli che non possono assolutamente permettere la pose di materiali o conglomerati bituminosi, quindi asfalti o cementizi, questa qui è una valida alternativa per rendere i percorsi naturalmente lisci come un asfalto, quindi con un grado di ruvidità che evita scivolamenti o cose di questo tipo e allo stesso tempo una consistenza che permette la sua percorribilità senza nessun tipo di problema. Quindi evitiamo le buche, evitiamo le polveri, che sono i due grossi problemi delle situazioni appunto trattate solo con materiali inerti. Con questo prodotto qui riusciamo ad abbattere le polveri completamente e ad evitare le buche che si formano di solito nei mesi invernali quando le piogge vanno a erodere un pochino quello che è il prodotto superficiale. Qual è il ruolo della Rondinelli Escavazioni rispetto alla distribuzione di questo importante prodotto? La nostra azienda nasce nel 1964 con mio padre che ha iniziato appunto l'attività di escavazione poi abbiamo naturalmente allargato i nostri interessi su tutte le lavorazioni stradali per cui oggi riusciamo a servire tutta la parte infrastrutture, la parte appunto di escavazione del movimento a terra e delle aree verdi che è stata una delle ultime diciamo così attività che la Rondinelli ha intrapreso. Nel percorso abbiamo incontrato appunto questo prodotto che si come dicevo prima applicabile nelle aree di vincoli ambientali e quindi l'abbiamo sicuramente visto come un prodotto innovativo e sulla nostra zona non è mai stato commercializzato quindi noi oggi siamo distributori in esclusiva per la Romagna del prodotto Soil Cement e ci proponiamo al di là della vendita del prodotto che a fine se stesso non ci interessa nel senso a noi interessa posarlo anche perché i procedimenti, i processi di posa del prodotto sono importantissimi cioè qui gradi di umidità, analisi sui materiali che andiamo a trattare sono determinanti per ottenere i risultati quindi per noi è importante trovare occasioni e situazioni dove possiamo andare a posare il prodotto che abbiamo di ripeto in esclusiva ma sotto il controllo stretto dei nostri tecnici perché altrimenti il risultato sarebbe direi contrario nel senso non otterremmo quello che noi ci prefiggiamo e che il prodotto può dare Claudio Garvari responsabile commerciale nazionale per il Soil Cement allora qual è la storia del Soil Cement di questo prodotto e quali i pregi maggiori? Il Soil Cement nasce negli anni 70 negli Stati Uniti per motivi militari infatti l'esercito aveva bisogno di un prodotto che legasse gli inerti che trovava in qualsiasi parte del mondo senza dover utilizzare asfalto, cemento o calce quindi ecco che da un laboratorio in Ohio un italo-americano ha inventato questo polimero a base vinilica che necessita solamente di essere miscelato con acqua e inerti qualsiasi tipo di inerte in base anche alla tabella AASHTO che è una tabella internazionale che classifica gli inerti a livello mondiale quindi il prodotto permette di legare qualsiasi tipo di inerte e le caratteristiche principali di questo prodotto posso dire che sono il fatto che è totalmente atossico e che non modifica il colore dell'inerte quindi impatto ambientale zero infatti tutte le strade che vengono lavorate in questo materiale hanno un impatto cromatico naturale in quanto il colore dell'inerte rimane invariato Quante modalità applicative esistono nella messa in opera in posa di questo materiale? Le applicazioni sono quattro e l'applicazione viene scelta in base al tipo di cantiere infatti se si parla di una strada nuova si può fare un impasto in impianto a freddo o in auto betoniera e stendere il materiale a freddo con una vibrofinitrice che è la stessa che è utilizzata per gli asfalti altrimenti come nel caso di oggi si va a fresare l'inerte presente in sito in quanto in questo caso è un buon inerte, una buona ghiaia e si va a bagnare quanto viene fresato col prodotto mescolato ad acqua altra soluzione è quella di bagnare solamente in aspersione la strada rendendo la strada solida, coesa nei primi 4-5 cm della superficie l'ultimo sistema lo si utilizza di applicazione, lo si utilizza in lavori di giardinaggio infatti l'inerte viene miscelato in una benna impastatrice stesa a terra manualmente Quante e quali fasi applicative ha il metodo che avete scelto oggi per la posa in opera di questo materiale? Le fasi scelte per oggi sono le seguenti si sta fresando la strada, oggetto del cantiere per circa uno spessore di 8 cm dopodiché verrà spruzzata l'emulsione composta da acqua, circa 7 litri al metro quadro mescolato appunto con il soil cement 0,8 litri al metro quadro una volta che abbiamo bagnato tutto l'inerte la fresa farà un ulteriore passaggio per amalgamare l'inerte con emulsione dopodiché interverrà il rullo nella fase di compattazione e domani, credo nel pomeriggio, questo dipende dal meteo, quando la superficie sarà totalmente asciutta andremo a bagnare la superficie della strada con una piccolissima quantità di prodotto circa 0,2 litri al metro quadro mescolata a un litro e tre di acqua questo permetterà alla strada di essere carrabbi nell'arco di due giorni e mezzo e l'ultima caratteristica del prodotto che abbiamo dimenticato in precedenza è quella che rende totalmente priva di polvere la strada quindi nel passaggio ai mezzi non si alza più la polvere In quanto tempo la messa in opera è finita e operativa? Il prodotto si attiva, se si può dire così, nel momento in cui evapora l'acqua quindi è il meteo, il sole o il vento che determinano il momento in cui si può aprire la strada solitamente la media, siamo sui due giorni, in due giorni si riesce ad asciugare una strada di uno spessore di 8 cm, però dipende anche in quale zona d'Italia siamo perché le temperature dal nord al sud d'Italia possono cambiare